6.000 euro per chi assume uomini tra i 30 e i 35 anni che salgono a 9.000 per le donne. C'è 1.200.000 euro messo a disposizione dalla regione Abruzzo e destinato alle aziende nell'ambito del bando 30+, predisposto dall'assessorato alle politiche del lavoro. Sono già 600 i ragazzi che hanno inserito il proprio curriculum sul sito Borsa Lavoro, che potrà essere consultato dagli imprenditori per scegliere il loro candidato ideale. Intanto sono fondi che non attingono alla nuova programmazione 2014-2020, ma sono fondi derivanti dal piano integrato giovani del Ministero del Lavoro. Si tratta di 1.200.000 euro circa. Le linee intervento sono due per tirocinanti extracurriculari e sulle aziende un incentivo nell'ipotesi in cui quelle aziende dovessero decidere di assumere a tempo indeterminato quei tirocinanti al termine dei sei mesi. Abbiamo privilegiato questa doppia linea di intervento proprio per fare in modo che al termine del tirocinio ci sia una percentuale più alta di assunzione a tempo indeterminato. Il bonus garantito dal bando 30+, è cumulabile con altri bonus nazionali e va a completare l'azione intrapresa con il progetto Garanzia Giovani, rivolto ai ragazzi fino ai 29 anni. Le domande possono essere presentate a partire dal 26 aprile e fino al 27 maggio.